Ciao a tutti e bentrovati. La settimana in tv oggi parla della festa patronale di Santa Giulia. Parleremo poi delle cantine sempre più stretto in legame con le parrocchie e poi della festa al santuario di Montenero di tutti i bambini della diocesi. Monsignore, un'altra festa patronale all'orizzonte. Ancora festeggiamo Santa Giulia. Santa Giulia è un nome comunissimo qui in Livorno, un nome bello, un nome antico che viene dalla tradizione romana e che fa capire che la nostra santa è una martire dell'epoca delle persecuzioni romane, ai tempi di Diocleziano, quando si scatenò una tremenda persecuzione fra il 280 e il 300 circa dopo Cristo. È una martire che viene dall'Africa. È una persona che per la fede ha dato la sua vita. Come sta succedendo oggi purtroppo? Quanti martiri africani? Ci ricordiamo di quei cristiani uccisi in Libia, che ha fatto vedere anche la televisione, che furono sgozzati, ma quanti altri martiri africani al Cairo durante il giorno della Domenica delle Palme. Anche lì, questa strage, anche il Papa è andato lì per pregare con questi martiri. È una chiesa di martiri, la chiesa di Africa. È una chiesa che testimonia con forza il suo coraggio e questa donna, questa ragazza, questa figura così forte viene a insegnare a noi cristiani d'Italia il coraggio della fede, di essere persone fedeli a Gesù nella propria vita, nei propri comportamenti, nella propria testimonianza. Ci richiama ogni anno alla fedeltà al Santo Vangelo. E credo che, come tutti gli anni scorsi, anche quest'anno, il popolo di Livorno farà vedere in maniera calorosa il suo affetto verso la Santa. Ci ritroveremo per accogliere le reliquie della Santa il 21 sera, alle 21.30, lì davanti Piazza Mazzini, per il Palio delle Antenne, l'arrivo delle reliquie e poi, il giorno dopo, come al solito, la Santa Messa e poi la processione che andrà a benedire il porto. Benediciamo il porto perché è la fonte di lavoro e di vita per la città. auguro a tutti una buona festa patronale. In occasione della festa di Santa Giulia, domenica 21 maggio, ci sarà il Palio di Santa Giulia a Giostra dell'Antenna. In questa occasione abbiamo voluto visitare le sezioni nautiche per capire di più qualcosa sul mondo remiere e soprattutto su un progetto futuro di collaborazione fra parrocchie e cantine. Presidente Quercioli, un progetto, un'utopia, quella di unire cantine e parrocchie per il futuro e per salvaguardare anche i giovani? Sicuramente sì. Uno degli elementi chiave, secondo me, nel rilancio delle sezioni nautiche e delle cantine, ma soprattutto per fare aggregazione giovanile, è quello di collegare le parrocchie all'attività sportiva remiera cittadina. Perché? Perché purtroppo è andato di fatto, prima c'era un rapporto col territorio più forte, grazie anche alle circoscrizioni, c'era un legame vivo. Oggi non c'è più nulla a tutto questo. Quello che resta sono giusto appunto le parrocchie con l'oratori. L'oratori sono un elemento, secondo me, di aggregazione che può essere utile al Palio e viceversa. Lorenzo e Michele ci raccontano come hanno iniziato. La scelta è stata fatta per provare un'esperienza nuova. Mi interessava anche dal punto di vista proprio estetico, nel senso provare a vogare nell'ambiente marino, vedere il tramonto. Sembrano cavolate, ma ho iniziato anche per provare nuove emozioni e poi mi sono appassionato e innamorato di questo sport. Per me invece il motivo principale è stato quello di voler sperimentare uno sport di squadra, perché io ho sempre fatto sport individuali e avevo proprio il desiderio di capire cosa voleva dire condividere la fatica e determinati obiettivi con degli amici. Una sfida, quella della collaborazione tra parrocchie e cantine, che può essere una buonissima idea oppure soltanto un'utopia. Sentiamo cosa ne pensa il dirigente della sezione nautica Pontino San Marco a Tiglio Lembi e i vogatori del Labrone. Certo, io me lo auguro perché abbiamo bisogno, non è che noi dobbiamo distinguere le parrocchie o altri correnti, pur che vengano, noi abbraccio aperto e le aspettiamo. Secondo me l'idea di fondo che potrebbe collegare la realtà parrocchiale e quella delle cantine è una realtà a livello di oratorio, nel senso come i ragazzi sono sempre andati magari anche negli anni passati in un oratorio per spendere del tempo, fare amicizie, giocare e divertirsi. Allo stesso modo penso che in una cantina potrebbero trovare un ambiente dove costruiscono buoni rapporti umani e insieme concorrono per un obiettivo che sì, è vero come si diceva prima, la fatica invernale è tanta, però poi alla fine anche questa fatica, questo impegno viene giustificato e gratificato dalla bellezza delle gare e del successo che si ha. Una curiosità, quanto pagate per venire in cantina? Zero, effettivamente non ci sono nessun tipo di spese. Uno sport faticoso fatto di molti sacrifici ma che ti insegna a vivere. Gabriele, Federico e il presidente del Labrone ci spiegano perché. Il valore principale è l'aggregazione, il momento proprio ricreativo dove un vocatore lo condivide insieme ai suoi compagni. Noi siamo uniti sia in barca, nell'allenamento, ma una volta che mettiamo il Remo a posto facciamo gruppo anche fuori dalla cantina. Dal sacrificio viene tutto, l'amicizia, il cuore, la voglia di fare, per me è questo. Lo sport del Remo è uno sport che nonostante si faccia in equipaggio è uno sport molto interiore perché devi combattere, è uno sport molto faticoso e la fatica si combatte interiormente soprattutto. La squadra, l'equipaggio fa sì che la fatica sia vinta con l'entusiasmo, con la forza comune di raggiungere l'obiettivo. E questa lotta interiore con la fatica che si sopporta durante la voga è molto formativa a livello umano, personale, perché ti insegna a non mollare, ti insegna nella vita a non mollare mai. La diocesi di Livorno avrà un altro sacerdote. Si chiama Marcello, ha 37 anni e viene dal Cile e il 28 maggio alle 5 in cattedrale sarà consacrato sacerdote. In quest'ultimo anno Marcello ha prestato servizio alla parrocchia del Sacro Cuore Salesiani e ha collaborato con il quotidiano della diocesi la settimana tutti i giorni. Un'ordinazione che arriva a distanza di un anno da quella di altri quattro sacerdoti, una scelta di vita, quella di Marcello, di mettersi al servizio di Dio e della comunità ecclesiale. Tantissimi i bambini al santuario di Montenero. A tutto cuore un appello a mettere l'amore in azione a servizio dei bambini meno fortunati. È stato questo l'invito rivolto ai piccoli che hanno partecipato al pellegrinaggio diocesano a Montenero come avviene ogni mese di maggio. Nel santuario davvero gremito sono risuonate le voci dei ragazzi che hanno pregato e cantato per tutto il pomeriggio, accompagnando la loro gioia con gesti di carità. Hanno infatti offerto generi alimentari, giochi, medicamenti e materiale di cancelleria ai bambini seguiti dai servizi Caritas e ai poveri della Tanzania, con cui la diocesi è gemellata. Vi segnaliamo adesso alcuni appuntamenti per la prossima settimana nella diocese di Livorno. Domenica 14 maggio alle 16 all'impianti sportivi di Banditella la manifestazione In Cammino con noi, organizzata dall'Associazione Italiana Persone Down, Volare Senzali, Associazione Autismo, Onlus e Disabilandie. Alle 18, sempre domenica 14 maggio, la Santa Messa è il conferimento dell'accolitato ai seminaristi alla Chiesa del Sacro Cuore ai Salesiani. Lunedì 15 maggio alle 10.30, in occasione del settantesimo anniversario della proclamazione della Madonna di Montenero a Patrona della Toscana, il pellegrinaggio al Santuario e la Santa Messa, preseduta dal Cardinal Betori e concelebrata dai Vescovi della Toscana. Martedì 17 maggio alle 10 l'incontro con gli ammalati della parrocchia di San Matteo in occasione della visita pastorale al secondo vicariato. Domenica 21 maggio alle 21, il Palio di Santa Giulia, giostra dell'Antenna e benedizione delle reliquie di Santa Giulia nello specchio d'acqua della Darsena. Lunedì 22 maggio alle 17.30, la Santa Messa solenne per la festa di Santa Giulia, la processione con le reliquie della Santa fino al porto e la benedizione sul sagrato della cattedrale. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, non perdetevi le altre notizie sulla settimanalivorno.it. Ciao! Grazie per la visione!